Namaste io sono East Brave bentornati ad un altro episodio di Batman Arkham City sono al terzo tentativo il primo praticamente off camera e lo stiamo finendo andiamo a bloccare l'ultimo e ciao ciao e come vedete c'ha le mine sul petto e si sentono anche praticamente ho giunto nella mia tattica ho cambiato semplicemente che ho utilizzato un pochino di più il si può andare di qua ho cambiato semplicemente il ho usato un pochino di più l'artiglio per buttarli giù dalle sporgenze ma direi che possiamo andare di qua come vanno le cose da dentro tutto fila liscia sono in posizioni la stanza è minata e se vedo Batman boom speriamo bene sembra che Joker si prepari alla guerra con Batman fuori dai piedi potremmo anche vincere preso no ok troppa roba in giro quindi mi sa che devo usare mi sa che devo usare altre cose neanche tu ma tu sei brutto sempre ok abbiamo utilizzato giustamente questo ma poi probabilmente dovrò utilizzare il lanciacavo quindi proviamoci di nuovo ah c'è una bomba qua il bel lanciacavo qua bam ok cool oh ciao Harley ciao guarda chi c'è che cosa vuoi Batman rigirare il coltello nella piaga beh sai pure non mi importa non ti dico niente non ti dico neanche della roba che Joker ha preso a freeze e che ha chiuso a chiave nella sala caldaia ma cosa abbiamo la roba chiusa nella sala caldaia che è qua sotto dell'equipaggiamento in più che potremmo andare a recuperare un'altra missione scondare no dai togliamone il bavaglio cosa ti sei divertito a piccare una fanciulla indipensa sono altri cecchini da quella parte hai sentito tutte quelle cretinate di Strange sul protocollo 10 che gli salta in mente non è stato proprio lui a darci tutte queste armi già pensavo che volessi far vincere Joker anch'io ma non credi che sia strano si spenderebbe milioni di dollari per costruire una prigione e per poi dare armi è Batman e finiamolo direttamente così ok così possiamo ritornare dal signor Joker qua sopra con anche il suo abito vecchio tra l'altro c'è qua protocollo 10 in vigore tra 10 minuti ah non stai bene Joker allora ricordati le buone maniere Batman per favore si dice non lo sai intendo se ci tenivi così tanto a questa dura bastava solo ah sembra che ti debba insegnare un po' di rispetto non hai niente da insegnare a me Joker oh andiamo c'è sempre qualcosa da imparare cominciavo con calci nel sedere prima lezione fuori secondi dobbiamo combattere contro Joker? solo io e te Batman su fai del tuo meglio facciamo direttamente il pestaggio ti prego basta non ce la faccio più hai vinto mi arrendo aspetta ho detto mi intendevo sì io e quelli là ah arriva un po' di genna oddio arrivano quei treni ah c'è il signor Abramovic il signor Martello è tornato vi avevo detto che erano che erano russi ah ah sbagliatissimo pipistrello pipistrello oh anche i cose giganti adesso sto per morire no ok un po' difficile questo commotimento però è tanto tanta roba tutta insieme è bellissima è bellissima la voce del Joker c'è poco da fare out out Diamo una mano Mr. Abramovic con un bel applauso Mi accarate Mi spazzerò sulle parecchie Andrei a utilizzare di più questa No, quella del K.A.O. a terra Per fare un pochino più di facilità Che se non sbaglio è questo? No, questo è lo stordimento Terra Dovrebbe essere A.B. allora Esatto Facciamo A.B. Dovremmo riuscire a fare un po' di K.A.O. insieme Possiamo passare qua sopra? Fate salire? Ok, perfetto Almeno possiamo menare un po' di gente da qua BAM contro il muro Non muoverti mentre ti sotterro la faccia Forza, forza, forza No muoverti mentre ti sotterro la faccia No, era rimasto l'ultimo Era rimasto l'ultimo Non dovresti rimetterti in piedi e cercare di fermarmi? Sì Adesso mi rimetto in piedi e cerco di fermarti Vediamo un po' come va questa volta C'è un po' di piazza pulita con A.B. che ci sta sempre Morirai stanotte stessa, Batman Il signor Abramo dice giusto? E no, tuo Batman Non serve sbracciarsi Ah, Batman Mi sto negando Usiamo un po' di Titan per ravvivare le cose Non muoverti mentre ti sotterro la faccia Mi spalmerò sulle pareti Mi sto usando tutta la roba che posso Quindi si colpiscono tra di loro anche Non muoverti mentre ti sotterro la faccia Non muoverti mentre ti sotterro la faccia C'è ben fatta? Non ce l'abbiamo fatta E con lui facciamo questa BAM Bel calcione Che mi hai aspettato? un ultimo desiderio una barzelletta magari o piuttosto uno scambio lascialo andare prendi me al suo posto le racconto io le barzellette qui Talia che cosa fai? io rappresento il grande Raj al Ghul festa del tempo maestro dell'antica vita degli assassini è buon per te libera Batman e noi ti daremo il segreto dell'immortalità non farlo Talia sarà inarrestabile cosa? vuoi dire che fa sul serio? e morta? affari fatte? piacerebbe? no ah c'è un segnalatore seguiamo quelle chiare quelle cuore hai finito Ivy te l'ho detto quella storia dei fiori non era colpa mia lo sai tu e lo so io dovevi innappiare avevi detto che li avresti innappiare ora ne è rimasto soltanto uno e c'è la Strange chiuso in cassaforte beh se è così possiamo trovare un accordo devo entrare nella sua cassaforte e tu sei la ragazza che mi aiuterà e se lo fai ti porto la piantina ti va? dovrei ucciderti va bene niente bacio sono un po' delosa fuori ora e ritorniamo a giocare con Catwoman dopo un bel po' di cui abbiamo un po' di potenziamenti oltre che ovviamente adesso la nuova missione di andare dove facciamo i potenziamenti? qua questa è la roba di Batman possiamo fare anche i potenziamenti Catwoman eventualmente eccoli qua anche lei all'armatura come potete vedere cose varie ok e allora vediamo di raggiungere di tuffarci a quanto pare in acqua e di andare a raggiungere il nuovo posto quindi da questa parte così vediamo anche i movimenti di Catwoman come sono ok dicono che Batman si è ammalato possiamo ogni tanto prenderne uno così se paro via prima adesso vediamo di contrattaccare qua abbiamo i chiodi con i triboli abbiamo fatto un bel po' di casino eh bam bel calcione in faccia e siamo e possiamo scendere qua sotto e nel livello delle fogne che deve esserci sempre vi ricordo continueremo il nostro prossimo episodio di Batman Arkham City io sono East Brave Namaste Be Brave